Ciao e benvenuto su Groove of the Day. Gli Spyrogyra sono uno dei gruppi fusion più longevi della storia di questo genere musicale. Nascono infatti a Buffalo in America nel 1974 e dal 1978, anno di pubblicazione del loro primo lavoro in studio, ad oggi hanno all'attivo più di 30 dischi. Il sound di questa band unisce pop, funk, jazz e latin con arrangiamenti anche molto complessi ma con melodie sempre decisamente orecchiavili. Nel 1982 gli Spyrogyra pubblicarono il loro sesto album in studio intitolato Incognito. Alla batteria siede il grande Steve Gadd ma nel disco sono presenti molti altri session famosi, ricordiamo per esempio Will Lee e Marcus Miller al basso, Hiram Ballock alla chitarra e Tom Scott al sax. Di questo disco ti propongo il brano di apertura intitolato Last Exit suonandoti un paio di groove che ritrovi nel corso del pezzo. Buon ascolto! Grazie a tutti! Come sempre nelle note sotto il video ti lascio il link per ascoltare il brano originale degli Spyrogyra ed un altro link per poter scaricare le trascrizioni di questi due groove. Iscriviti al canale e divertiti alla prossima! Ciao! Ciao!